Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra Evidente che la gente poco seguia quando parla di sinistra-destra Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Destra-sinistra, 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 basta A Teramo non succede nulla 39esima puntata di Carta Canta e ribadisco che a Teramo non succede nulla Non accadde nulla due anni fa, tre anni fa, quando furono arrestati Gavioli e Faggiano della Teramo Ambiente Perché a indagare fu la procura di Reggio Calabria Non è accaduto nulla quando la procura di Roma ha indagato la presunta associazione a delinguele Che ha gestito la Banca Tecca, se ha portato via circa un miliardo di euro al territorio terramano Non accadrà nulla quando si saprà, dopo Carta Canta, che anche un altro ente è interessato da Mafia Capitale e dall'Expo 2015 Vi ricordate lo scandalo? Vi spiego Nel luglio del 2014 un sitacato, la Will FPL, fa una richiesta di accesso agli atti all'ente Parco Gran Sasso e Monti della Laga Si chiede nell'oggetto Fondo salario accessorio anni 2012, 2013 e 2014 Delegazione trattante, tavolo sindacale per la contrattazione decentrata Domanda di accesso agli atti relativi ispezione ministeriale Bene, perfetto C'è stata una risposta? No Perché? Lo vedremo tra un po' Rinnova la richiesta agli atti, la Will, attraverso un sollecito datato già 7 novembre 2014 L'oggetto è sempre il solito fondo salario Fino a quando la Will non chiederà anche una sorta di diffida messa in mora Ricordiamo la Will FPL del segretario di Gianmartino e del dirigente Matè Andiamo avanti, perché? Perché la storia dell'ente Parco Gran Sasso e Monti della Laga diciamo colpisce, riempie ben quattro province L'Aquila, Rieti, Ascoli e Teramo Nel 2007, indovinati chi c'era a gestire la manutenzione attraverso circa una quarantina di dipendenti? C'era un certo Salvatore Buzzi Già, Salvatore Buzzi di Formula Ambiente Sapete chi è Salvatore Buzzi? Fa parte della famosa associazione a delingue della mafia capitale che in questo momento sta riempiendo tutti i giornali In quel periodo gestiva circa 120 mila euro al mese 60 mila euro erano destinati ai dipendenti E gli altri? Nessuno indagò Perfetto Tranne la CGL che chiese la stabilizzazione perché costava molto meno di dipendenti e alla fine la Formula Ambiente dovette tornare nella regione Lazio a far quello che poi ha fatto e sta facendo secondo le croniche nazionali Chi prese il posto di Salvatore Buzzi? Perché poi c'era bisogno di altri dipendenti di un'altra cooperativa perché le cooperative ci servono sempre A Teramo, vi ricordo, non succede mai nulla Dopo Salvatore Buzzi arriva un certo Claudio Levorato Era la Manutencop mi sembra Vi ricordate lo scandalo dell'Expo 2015? Già, gli arresti, le richieste di arresti, gli appelli C'era lui Circa 300 milioni di euro E' in fondo a Teramo, non succede mai nulla Carta canta